Buongiorno, oggi ci troviamo nel punto vendita di Monte Paone Lido per illustrarvi tantissimi prodotti per fare dei regali fantastici per questa fantastica ricorrenza del Natale. Ma guardiamoli insieme, ecco per esempio abbiamo dei panettoni biologici, molto semplice ma davvero molto delicato, dorato, poi abbiamo una stupenda selezione di caffè, questi qua sono tre caffè provenienti da varie parti d'Europa, guardate che bella, e poi ancora abbiamo delle mandorle calabresi, assolutamente, una selezione di tisane italiane, guardate qui, tantissimi regali che si possono fare nei nostri punti vendita, guardate qui, sempre una selezione di panettoni, di pandori biologici, anche vegani e senza glutine, e ancora abbiamo dei prodotti straordinari che potete vedere insieme a noi, seguitemi. Guardiamoli insieme, per esempio abbiamo questa selezione di tè aromatizzati, questo è proveniente sempre dal circuito di altro mercato, quindi parliamo di mercato ecosolidale, ecco possiamo fare dei fantastici regali spendendo davvero pochissimo, anche meno di 20 euro. Per esempio una fantastica tisana di Natale, pensate costa solamente 2,89 euro, ma ancora guardate qui, una selezione di, pensate, 72 tè inglesi in una confezione di latte, molto originale, molto carina, con meno di 20 euro. e ancora abbiamo una fantastica birra, una fantastica birra biologica al miele, pensate, questa viene meno di 8 euro, sono 75 cl, e tanto e tanto di regalo e soprattutto tanti prodotti di altissima qualità spendendo davvero poco, perché vi ricordiamo che nei nostri negozi la qualità la rendiamo accessibile a tutti. Grazie a tutti. Un reggiano stagionato 28 mesi solamente a 1 euro letto, quindi in pratica sono 10 euro il chilo, un reggiano stagionato 28 mesi. Grazie a tutti. 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 Come ogni anno però non ci facciamo mancare i fantastici torroni della cascina di Rocella Ionica e anche gli immancabili torroni di Bagnara Calabra, i famosissimi torroni. E ancora panettoni sempre artigianali con gusti davvero fantastici. Guardate questo ripieno di ripieno di crema al pistacchio. E per accompagnare soprattutto i pasti durante questo Natale la nostra selezione di frutta secca. guardate qui abbiamo una scelta. Abbiamo una scelta vastissima, per esempio delle scorze di arancia candite, guardate qui, queste sono strepitose, dalla provincia di Cosenza e ancora delle clementine intere candite. Ma non ci facciamo mancare mai i datteri. Guardate qui, guardate qui, abbiamo una selezione di datteri immense, fantastici. Per esempio, guardate qui, un mix di frutti rossi strepitoso, guardate il prezzo, solamente 3,69 euro una vaschetta, davvero piena piena piena. Ma ancora, guardate questi datteri, datteri palestinesi, una confezione, guardate, intera di datteri, solo 7,99 euro. Guardate come sono belli. E ancora mandorle California, solamente a 9,90 euro il kilo. Tantissimi prodotti di qualità che potete trovare nei nostri negozi al giusto prezzo, perché per noi la qualità deve essere accessibile a tutti.